Devi solo imparare a cantare con il cuore. Basato sul classico della letteratura per ragazzi senza famiglia di Hector Malot, il film racconta le avventure di Rémy e la sua vita al fianco del musicista girovago Vitalis, in un viaggio fatto di incontri e nuove amicizie, che porteranno Rémy a scoprire le sue vere origini. Diretto da Antoine Blossier, il film si prende molte libertà narrative, ma conserva intatto lo spirito del romanzo. Nessuno è quello che sembra, non i genitori adottivi, non Vitalis, né i numerosi imbroglioni che Rémy incontrerà lungo la strada. Blossier sceglie una messa in scena classica e un duo di interpreti convincente. La grande cura per scenografie e costumi e la luminosità piena di speranza di molte scene mirano a fare di Rémy un instant classic per l'infanzia.